Abbiamo fatto una discussione, a dir poco ridicola, potrei usare termine molto peggiori, ma diciamo ridicola, che è stata fatta lunedì, da dove non esisteva neanche uno straccio, di quello straccetto che invece è arrivato martedì, di due o tre linee basi di principio, su un foglio bianco, che poteva essere anche di carta igienica, sul cui abbiamo fatto circa due ore e mezza di discussione generale. Ora ci troviamo a dire che la discussione generale è terminata, che abbiamo di fronte, non è più carta igienica Presidente, potrebbe essere tranquillamente carta riciclata, adesso già 7-8 volte, su un testo che lei ha definito di massima, quindi che non rappresenta una proposta di legge, no no mi lasci finire Presidente perché mi lasci finire, ma quindi non è una proposta di legge e quindi non è neanche abbinabile, perché giustamente diceva Bragantini quello che ho detto poco fa in ufficio di Presidenza non reso contato, che tra l'altro manca degli allegati, che in una legge elettorale sono importanti, tanto quanto se non di più, e lo dice l'esempio del Mattarellum dove la politica si è disegnata ai collegi per vincere, mancano le tabelle con indicate le circoscrizioni, quindi noi stiamo decidendo, lei ha detto Presidente, di prendere come testo base un qualcosa che non rappresenta una proposta di legge, signor Presidente i cittadini se sapessero quello che sta accadendo qua si prenderebbero a calci nel culo.